Grazie Presidente. Brevemente per rimarcare quanto accennava il Consigliere Zannola, ovvero fermo restando che trattasi di un adempimento di legge, ma c'è qualcosa che va anche oltre il mero adempimento normativo. Dettato dalla legge 68 del 99, si tratta anche di una questione etico-morale. Fermo restando che risulta che l'amministrazione di Roma Capitale ha adempiuto per quanto riguarda il rispetto della norma. Siamo sicuramente allineati sull'obiettivo, anzi è intendimento della maggioranza di andare incontro a questa mozione anche analizzando ulteriormente la questione in una commissione dedicata o più commissioni dedicate, visto che si tratta di un tema trasversale. Quindi a nome della maggioranza il voto favorevole. Grazie. 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 Grazie.